La terza azione è contro il memorandum Italia-Libbia. Le prime due azioni sono state fatte dalla tenda per la pace e con tutte le realtà che fanno parte della tenda, quest'ultima azione è fatta dal circolastico Masancara e dalla tenda della pace ed è stata lanciata a livello nazionale dal tavolo Asilo. Mi leggerò ora l'appello che il tavolo Asilo ha lanciato contro il memorandum Italia-Libbia. Cinque anni. Questo è il periodo dell'operatività del memorandum Italia-Libbia. L'accordo con cui i paesi si rispondono del Mediterraneo si impegnano ufficialmente in processi di cooperazione, contrasto all'immigrazione legale e rafforzamento delle sicurezze delle frontiere. Quanto previsto contrasta tuttavia con la lealtà. Le ricadute sulla vita di uomini, donne, bambini e bambini migranti sono infatti dalle conseguenze più drammatiche di un fatto che è evidentemente illegittimo. dal 2017 all'11 ottobre 2022 quasi 100.000 bambini, donne e uomini sono stati intercettati in mare dai guardi a costelli libici e riportati in un paese che non può essere considerato sicuro. Essere una persona migrante in Libia significa infatti essere costantemente a rischio di essere arrestato, detenuto, abusato, picchiato, sfruttato. Significa ragazzi scogliati di ogni diritto e non ricevere alcuna tutela. Il memorandum non si limita a prospettare cooperazione e pregetturità generiche. L'accordo prevede infatti il sostegno alla cosiddetta guardia costiera libica attraverso fondi, mezzi e addestramento. Continuare a supportarla significa non solo contribuire direttamente e materialmente al respingimento di uomini, donne e bambini ma anche sostenere i centri di detenzione ufficialmente definiti di accoglienza dove le persone vengono sottoposte a trattamenti inumani e degradanti vengano abusate e uccise. Tutto ciò si inserisce in un quadro politico particolarmente instabile in cui le violenze contro la popolazione crescono di anno in anno così come gli sfollati e dove innumerevoli testimonianze ed apporti di organismi internazionali confermano la commissione delle autorità libiche con le milizie e il loro coinvolgimento nel sistema di detenzione arbitraria sfruttamento, abuso e tortura sistematica di migranti e di piedenti asilo. In questo scenario è sempre più difficile tracciare i fondi e mezzi inviati grazie al memorandum, cosa che aumenti il rischio che gli stessi vengono utilizzati nel conflitto interno e inoltre è pressoché impossibile fornire una protezione significativa alle persone vulnerabili. Le opzioni sicure e legali per lasciare il Paese sono limitate sia nell'accesso sia nei numeri tanto che sono molte le persone che decidono di intraprendere un viaggio di ritorno via terra in particolare lavoratori stagionali provenienti da paesi vicini correndo rischi simili a quelli già affrontati per raggiungere la Libia. Molti altri invece provano ad attraversare il Mediterraneo pagando somme messe da parte con lavori svolti spesso in condizioni disumane e affrontando gli agi pericolosi in cui la probabilità di annegare è alta quanto quella di essere intercettati e respinti dai guardi a costieri libici. Nonostante tutto questo, l'Italia e l'Europa europea continuano a impiegare in Libia sempre più risorse pubbliche e a considerare la Libia un Paese con cui potre stringere accordi all'interno di un complesso sistema basato sulle politiche di esternalizzazione delle frontiere che delega ai paesi di origine e transito la gestione dei flussi migratori con il sostegno e la collaborazione dell'Unione europea e degli Stati membri. Dal 2017 i guardi a costieri libici hanno ricevuto oltre 100 milioni in formazione e equipaggiamenti 57,2 milioni dal Fondo fiduciario per l'Africa e 45 milioni solo attraverso la missione militare italiana dedicata. Soldi pubblici e risorse destinati alla cooperazione e allo sviluppo impiegati invece per il rafforzamento delle frontiere senza alcuna salvaguardia dei diritti umani né alcun meccanismo di monitoraggio e revisione richiesto dalle norme finanziarie dell'UE. Il memorandum Italia-Libbia non sta ponendo un argine alle violazioni dei diritti delle persone migranti al contrario crea proprio le condizioni per il loro proseguimento agevolando indirettamente pratiche di sfruttamento e di tortura perpetrate in maniera sistematica e tali da costituire crimini contro l'umanità così come definito dalla missione di inchieste indipendente delle Nazioni Unite. Nonostante il memorandum prevede all'articolo 2 il sostegno alle organizzazioni internazionali presenti e che operano in Libia per seguire gli sforzi mirati anche a rientro dei migranti nei paesi di origine compreso rientro a volontario l'effettiva capacità di queste ultime di interare le persone migranti e richiedenti asilo in tale situazione è estremamente limitata e dipendente dalle scelte delle autorità libiche. Ciò dimostra, insieme alla situazione di insicurezza e instabilità del paese nord-africano e alle innumerevoli testimonianze degli abusi da parte dei cittadini stranieri di Libia la completa e totale irriformabilità del sistema memorandum e in generale di blocco delle partenze dalla Libia. Sussiste infatti, come dimostrato, l'impossibilità strutturale di apportare qualsiasi forma di miglioramento dalle condizioni di vita delle persone migranti di Libia a cui si aggiunge un inadeguato accesso dei richiedenti asilo e rifugiati alla protezione internazionale. Per tutte queste ragioni, le persone migranti presenti in Libia e quelle che, in considerazione dei traumi vissuti, possono essere definite superstiti, chiedono che sia loro riconosciuta dignità umana, oltre che un pieno protagonismo politico e, insieme a tutti coloro i quali si richiamano la cultura giuridica europea, sollecitano l'Italia e l'Europa a riconoscere le proprie responsabilità e a rinnovare gli accordi con la Libia. No al memorandum Italia-Libia!